Lungo la costa adriatica di Petacciato Marina ci sarà domani mattina un'escursione indetta dagli ambientalisti per gli amanti della natura e delle specie animali. I visitatori potranno partire dal centro di educazione ambientale della località balneare, seguiti da biologi dell'Ateneo ed esperti naturalisti alla scoperta della biodiversità sul litorale del Basso Molise e approfondire gli aspetti più nascosti dell'evoluzione animale. Una speciale occasione per giovani e non di conoscere da vicino il nostro ecosistema alla scoperta di insetti volatili di vegetazione a pochi metri dal mare in uno dei luoghi meno esplorati e conosciuti dalla costa molisana ma vittima come spesso accade del passaggio dell'uomo per i rifiuti che spesso vi si annidano in qualsiasi periodo dell'anno. Proprio di poche settimane fa il movimento ambientalista Fareverde ha raccolto una infinità di immondizia vomitata dalle maree sulla battigia. Tutto è di più gettato in acqua dagli stessi operatori della pesca che dovrebbero avere a cuore le sorti dell'Adriatico e invece lo infestano con gravi pericoli per la salute dei pesci. L'occasione di domani alla Marina di Petacciato ha trovato la collaborazione dell'Università Molisana, associazioni e di numerosi volontari.